Anticipazioni il segreto. Mercoledì 11 settembre 2019. Elsa riceve una chiamata misteriosa. Sol e Pedro vengono separati prima del degenerare della situazione. Nel frattempo la notizia fa il giro di tutta Puente Viejo e giunge anche all'orecchie di Severo. L'uomo spaventato teme che lo scontro tra Pedro e l'Ortega non sia affatto terminato con la vicenda verificatasi in piazza. E infatti non si sbaglia perché il molero e il marito di Ulieta vogliono incontrarsi fuori città e le intenzioni non sono delle più nobili. Antolina e Alvaro siglano un accordo per raggiungere i loro rispettivi obiettivi. Per lei è essenziale che il dottore, sposando e ingannandola a Laguna, la allontani da Puente Viejo. Dice che l'aiuterà nell'intento. Per lui è necessario impadronirsi di tutta l'eredità della ragazza per poi lasciarla. Fernando affronta Franzisca per il suo cambio di atteggiamento nei confronti di Roberto. È diventata inaspettatamente docile e comprensiva nei suoi riguardi e le chiede di vuotare il sacco. Che cosa sta pianificando? La Montenegro non ci mette molto a sciogliere l'enigma. Se Roberto deciderà di stabilirsi in Spagna, anche la Castaniera di conseguenza vi resterà. Mattias visita Isaac e durante un confronto il suo amico subisce un incidente che gli provoca un grande infortunio. Il locandiere porta subito il falegname in dispensario dove incrocia Elsa che è senza Alvaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.